Per noi è una cosa storica, storica perché andiamo a unire per la prima volta le terre, quindi l'agricoltura, con tutte le sinergie delle altre attività imprenditoriali. Agricoltura e industria della Capitanata insieme nel segno della sostenibilità ambientale, della transizione ecologica e della sperimentazione di nuove forme di produzioni di energia. E' stato infatti sottoscritto presso la sala convegni di Via Valentini-Vistafranco un protocollo di intesa tra Confindustria Foggia e l'azienda pubblica di servizi Zaccagnino, diretta dalla commissaria Patrizia Lusi. Tra i primi obiettivi del patto, la partecipazione ad un bando sulla coesione sociale per realizzare laboratori scientifici ultramoderni per lo studio della nutraceutica. La sottoscrizione del protocollo di intesa è stata suggellata dalla presenza del presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. E' un protocollo che si occupa essenzialmente dei temi di cui si discute in questo periodo, quindi transizione ecologica, sostenibilità ambientale e possibilità di sperimentare nuove forme di produzione di energia elettrica attraverso modelli alternativi agli usuali e ai soliti, che possono essere i soliti pannelli fotovoltaici o altro, oppure, cosa che ovviamente noi preferiremo, è il cosiddetto agrovoltaico. Questo esperimento, la Zaccagnino ormai è molto ben diretta dall'avvocato Lusi, è il luogo delle sperimentazioni e dell'innovazione nella filiera commerciale del grano, ma adesso anche di questa integrazione tra agricoltura e industria. D'altra parte Foggia è la città che ha inventato il brevetto che consente, diciamo, di produrre farine adatte per i celiaci e quindi evidentemente c'è un'abilità e una vocazione della città verso la ricerca scientifica e verso la filiera agroalimentare.